È stata una caccia all'uomo, anzi agli uomini, durata quasi due anni, quella della Polizia di Stato sulle tracce di rapinatori e fiancheggiatori che il 24 marzo del 2022, in tarda serata, hanno messo segno il colpo al cavò dell'Istituto di Vigilanza Ivri Sicur Italia di San Giovanni Tiatino, nella zona dei centri commerciali di San Buceto, con tecniche paramilitari, armi pesanti e perfino l'utilizzo di un escavatore. Rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi e simulazione di reato, tutti aggravati dal metodo mafioso. Di questo dovranno rispondere, a vario titolo, le sei persone arrestate dalla Polizia, tutte già note alle forze dell'Ordine, due delle quali raggiunte in Abruzzo, nelle province di Chieti e Teramo, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari dell'Aquila, sul richiesta della procura distrettuale antimafia dell'Aquila. Delle 23 perquisizioni a carico di altrettanti soggetti, sempre nell'ambito delle indagini avviate all'indomani del 24 marzo del 2022, due sono avvenute in Abruzzo, a Lanciano e Pescara. Gli altri arresti sono stati compiuti nel Foggiano, dove la banda faceva base. L'operazione della Polizia di Stato, in corso dalle prime luci di questa mattina, è stata condotta dalle squadre mobili delle questure di Chieti e Foggia e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. I dettagli sono stati forniti nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la sede della questura di Chieti in Piazza Garibaldi. Al TG8, Nicoletta Giuliente, dirigente della squadra mobile di Chieti. Questi arresti sono stati effettuati sia in provincia di Chieti, in provincia di Teramo, in provincia di Barletta, Andrea Trani, che in provincia di Foggia, nello specifico nel comune di Cerignola. Le 23 perquisizioni invece a cosa stanno portando? Al rinvenimento di copioso materiale, al riscontro dell'attività investigativa e soprattutto servirà anche all'acquisizione di materiale biologico da utilizzare per la comparazione con il materiale biologico che noi abbiamo rinvenuto dal sopralluogo effettuato subito dopo la commissione del reato. L'attività di indagine ha fatto emergere che ci sono altri reati commessi in altri territori, diversi ovviamente dalla provincia di Chieti, e sul quale si lavorerà per portare a compimento anche altre attività di indagine. Il bottino è stato recuperato? No, il bottino non è stato recuperato, era una somma di quasi 5 milioni di euro interamente in contante e quindi insomma riteniamo che sia stato occultato. Gli arrestati abruzzesi che ruolo avevano in questa banda? Hanno avuto un ruolo molto importante, quello logistico, per cui sono persone di assoluta fiducia alle quali i vertici del gruppo criminale foggiano si è rivolto sapendo di poter contare su soggetti che effettivamente li hanno aiutati, sia offrendo luoghi dove stare, sia nello spostamento dei mezzi e quant'altro. Il colpo milionario era stato studiato e curato in ogni minimo dettaglio. Difficilmente nel comune in provincia di Chieti si dimenticheranno le scene da far west dell'incredibile rapina che ha messo a ferro e fuoco la zona di San Buceto. L'arrivo delle forze dell'ordine non era riuscito a bloccare la fuga dei malviventi che dopo uno scontro a fuoco con la polizia senza feriti hanno fatto perdere le proprie tracce, fino agli arresti e alle perquisizioni di oggi, con le indagini che vanno avanti anche su nuovi filoni, come spiegato dal questore di Chieti, Aurelio Montaruli. Questa è solo una prima fase, perché sono state oggi, stanotte, raccolte ulteriori prove e comunque ci sono delle fette di questa indagine durata quasi due anni che sono state già assegnate per competenza ad altre procure della Repubblica, interessate perché evidentemente sono fatti dei quali siamo venuti a conoscenza ma che si sono verificati in altre province, in altre regioni.